Allora, come sapete, la Sherwood Web TV è tante cose, istruzione, giornalismo, inchiesta, musica, ornitologia. Visto che prima, in qualche modo, ci è sembrato di capire che il gruppo che suonerà questa sera doveva raggiungere lo stesso tasso alcolico per riuscire a suonare bene insieme, si sono tutti recati verso il gazebo dei cocktail, noi cosa abbiamo fatto Cara Claude? Ma tu non sai che abbiamo qui con noi. No, non lo so. Prima di tutto è un amico perché è poi un ascoltatore, puntualmente lui ascolta Heavy Hour che è anche su Sherwood.it Ah sì? Il tuo programma diciamo. Il mio programma insieme al DJ senza spina dorsale che è di là in regia che non si vede. Ma poi, tu non sai, Samuel dei Subsonica ha detto che lui fa il miglior mojito. No! Per cui ci stava benissimo. Ma perché la menta è una delle migliori menti del mondo. Del black man? Beh, quindi è la migliore menta? In Lime viene dal Brasile, lo porta, io lo conosco, un ragazzo si chiama Dino, Dino Zer, lui va con la sua barchetta tutte le sere, finito il festival, tramite il canale di Padova in Brasile a prendere il Lime, lo porta qua e... Ma va con una barchetta green però, perché sai che io sono... È green la barchetta, mi dice di sì. Vai a energia solare, perché oggi è partito il primo aereo a energia solare che ha finito il giro, è partito il 13 maggio da San Francisco e oggi è arrivato a New York, un aereo che si muove a energia solare. Solo energia solare? Eh sì ragazzo. Ma presentaci un po' il tuo nuovo host. Allora, Stefano, Stefano è un collabora di Shellwood e quest'anno si è ritrovato al Black Mamba, giusto? Esatto, sì. Grande amante della musica e del buon bere, ci presenta questa sera un cocktail particolare, cosa ci presenti? Il muito, la cosa che va per la maggiore in assoluto, è il Black Mamba. Cioè il prodotto è il cocktail più richiesto da voi? Sì, decisamente, sì. Ma lo fai... Sì, sì, ce lo fa con noi, non si è preparato niente di quelle cose già pronte, no, ce lo fa con noi. Ma tipo quelle cose alla clerici, quei programmi che vanno tanto nelle reti generaliste. Sì, finalmente, amici ascoltatori, abbiamo raggiunto la... Ma non è vero, lo facevi anche l'anno scorso con QB? Cioè, cosa stai dicendo? E cos'è QB? Prego. Allora, da dove partiamo, Stefano? Allora, dalla base. Si prende un bicchiere, ovviamente. Vuoi che ti tenga io il microfono, così vai meglio a parlare? Ok, prendiamo un bicchiere. Un bicchiere. Cosa c'è lì dentro, in questa scatola magica? Qui c'è il lime, qui c'è lo zucchero. Ok, zucchero ovviamente di canna. Canna grezza oppure canna raffinata? Quella che preferisci. Quella che preferisco. Allora, canna grezza, va benissimo. Canna grezza, canna grezza, sempre. Ok. Ma, ma, insomma, Carlo. Scusa, io mi stavo distraendo perché nel frattempo... Qui invece abbiamo il lime, chi è che ce lo porta ogni sera che prende la barcina? Le mani sono lavate. Le mani sono pulite, perfetto. Abbiamo anche un video di lui che si lava le mani, lo manderemo in onda. Sì, sì, dopo lo facciamo vedere. Questo che cos'è? Un goccetto di succo di limone. Ok. Quindi non è il sour, ma è il succo di limone. Perché tu sai la differenza tra il sour e il succo di limone, vero Carlo? Guarda, ma tu non sai quante volte io differenzio il sour dal succo di limone. Perché Stefano, un ascoltatore di Heavy Hour, sa che cos'è il sour rispetto al succo di limone. Dimmi, dimmi Carlo. Io lo so, ma gli ascoltatori che non lo sanno, glielo vogliamo spiegare? Non mi stavo ascoltando. Il sour è una cosa tipo albume d'uovo insieme al succo di limone perché lega. Deve legare. Invece qui non c'è il sour, ma c'è solo il succo di limone. Poi cosa ci mettiamo dentro? Sto ascoltando la la ragazza che mi porta il pestino. Mi sono dimenticato. Il che? Scusa? Il pestino. Il pestino. Eh miseria, eh sì, il mento va pestato. Andieni come regola quella di non ascoltarci. Di base però ogni tanto due battute. Il pestino, che sono molto curiosa. Eh, arriva in diretta. Lancia. Il nome, il nome, il nome. Chi è? Come si chiama? Luisa. Luisa, porta pazienza. Luisa, in diretta. Grazie mille. Il pestino. Il pestino. Questo è un prodotto, beh, io ho visto alcuni film della scoperta dell'America che già usavano il pistino nelle barche di Colcolombo. Il pestino, non il pistino. Carlo Vitelloni. Potete buicottarmi ed eliminarmi da questo momento televisivo. Ok, invece adesso abbiamo della menta freschissima che c'è solo allo Shellwood. Tra l'altro, se la piantate a casa in un'aiuola, sappiate che nel giro di un anno vi infesterà completamente l'aiuola, perché la menta è infestante, per cui se volete fare moneta moneta, coltivatela. La menta non va rotta. La menta non va rotta. Ah, ok, per cui devi pestare poco. Interessante questa cosa. Abbiamo perso un po' di cose, Mattonievadi. Giusto per rimanere in tema slovacco. Ok, tantissimo ghiaccio, quasi a riempire il bicchiere. Molto bene. E poi abbiamo rum. Che rum usiamo? Un rum bianco mi sembra, giusto Stefano? Un rum bianco. Ok. Ai Minguei a noi ci fa un baffo, questa è la verità. Assolutamente. È quello che è venuto a suonare qua l'altra sera, no? Soprattutto. Sì, sì, sì. Proprio non ci fa niente. Mamma, quanto rum, ragazzo. Eh, ma infatti forse Samuel aveva gradito il cocktail, penso. Ah, il rum, poi. Non ho detto del rum. Sempre lo stesso Sodino, con la barchetta, risale il Brasile e va a Cuba. Ce la porta direttamente. Ha dei rapporti anche personali con Fidel, che glielo dà dalla sua, apre la sua credenza, no? E tira fuori il suo rum. Non ce l'ha con suo fratello, ce l'ha con Fidel i rapporti. Con Fidel. È morto? No, non si sa. Un po' di tonica. Ok, un po' di tonica, perfetto. Ma giusto un pelo, cioè tre quarti di rum e un goccio di tonica, se possibile. Non importa, gli anticorpi ce l'abbiamo, non ci fa paura. Però almeno si è lavato le mani. Esatto. La mochetta è pulitissima, ogni giorno la passiamo con la vaporella. Ah, sì, sì. E si mescola in tutto. E si mescola. Ah, cioè tu hai già fatto un mojito, è già finito. Già fatto. E come mai quando andiamo lì a chiedere, a ordinarlo, ci impiegate mezz'ora a fare quale fate i cinque minuti? Perché lo chiede alle persone sbagliate. Ah, ecco. Quindi quando tu andrai la prossima volta al Black Mamba, devi chiedere Stefano. Stefano. Allora, tutti gli ascoltatori di... Oggi... No, non è vero, siamo velocissimi. È una giornata un po' così. Allora, io mi alzo un attimo e che vado a continuare la rappresaglia con chi mi ha appena dato lo scappellotto. Io posso assaggiare il mojito? Ah, lo bevi? Eh beh, certo. E io... Ecco la cannuccia, io ne bevo una, tu l'altra, no? Che figata. E continuo l'approccio molto lento che sto cercando di instaurare con la Claw. Claw, un giudizio immediato così, a bocca fresca, a bocca fresca. Dieci più. Dieci più, dieci più, era un voto che non è ancora mai stato dato. Grazie. Ci stava, eh? Così fresco, estivo e comunque facciamo un applauso ai ragazzi che lavorano alla gamba. Applauso, viva i cocktail, perché quasi tutti quelli che fanno i cocktail sono bravi. Quasi. Beh, Stefano sì. Quelli di là che ti tirano gli scappettoni, non lo so. Ecco. E noi ti ringraziamo per esserti prestato a questo cocktail in diretta. Non tutti hanno avuto il coraggio di farlo. No, fondamentalmente, poverino, lui è stato costretto perché ci conosciamo, siamo amici, è un ascoltatore. Lui è abituato alla rubrica... Eravamo amici. Eravamo amici alla rubrica cocktail, per cui se l'è dovuta beccare. Comunque grazie Stefano. La web tv fa nascere amicizie, ma le fa anche finire. Fa anche questo. Noi ti ringraziamo ancora per essere stati con noi in linea della regia. Dopo torniamo in studio, forse, forse, con il noto regista indipendente Ivan Grozni. Grazie. 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 Grazie.